ciao a tutti ciao benvenuti in questa nuova puntata di ark benvenuti a tutti è la settima 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 siamo già la settima però quindi oggi cosa andiamo a fare oggi faremo gli agricoltori andiamo a raccogliere pupsi in giro i pupsi dei dinosauri e andiamo a costruire una piccola orticello dove coltiviamo le nostre verdure quello che c'è quello che ci occorre per poi andare a fare le kibble bene cominciamo intanto portiamo a spasso un po nostro dodo che vede ha espulso un ovetto bene come dicevamo andiamo a fare gli agricoltori allora le verdure ci servono per fare le kibble che sono le crocchette degli animali il c'è di pollo esatto una spessa del genere se tu prendi un dodo ci puoi fare le crocchette anche allora ark di recente ha cambiato il sistema di calcolo delle kibble che una volta avevi la kibble di un dinosauro fatta con l'uovo di quel dinosauro ti andavi a tamare un altro dinosauro mentre adesso ci sono sei tipi di kibble la basic la simple la regular la superior la exceptional e la extraordinary quindi praticamente ogni ogni macro area ha un certo tot di uova di dinosauro con cui si possono andare a creare per esempio la basic sicuramente non dro tavarmi quissà qualche tipo di animale quel dodo puoi fare la basic quindi con un animale potete molto semplice a tamare puoi farti la tua basic kibble ci occorre però le verdure o altre tipologie di oggetti per esempio per fare l'ultima la extraordinary ci vuole il miele ok quindi abbiamo le nostre sei tipologie su ark game pedia trovate tutta la tutta la tipologia di ingredienti che servono per fare la vostra kibble serve sicuramente l'acqua la kibble o crocchetta va fatta dentro il pentolone però che ci serve sono le verdure oltre che altre cose che che se che altre risorse che vi serviranno per esempio vi servirà la linfa degli alberi che la trovate nella foresta come vedete qui ho già costruito la mia serra però serra coi muri di pietra perché il cristallo verrà sbloccato dopo perché se fate ci sono proprio i muri di cristallo in vetro vi danno un aumento del 300 per certo della produzione dei vostri croplot dei vostri della vostra coltivazione questo vedete dovete irrigarlo quindi io ho tirato i tubi mi sono agganciato coi tubi che abbiamo tirato nell'episodio precedente sono arrivato fino a qui ho messo la pipe cioè rubinetto ho messo la fonda centrale e poi dopo ho costruito in giro le altre fonde ho messo i muri e poi ho messo le coltivazioni state molto attenti perché quelle larghe sono veramente giuste 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 per una fondamenta quindi se siete un pelo fuori non vi fa più agganciare le tre in fila poi una cosa che vi serve è il fertilizzante logicamente dovete fertilizzare e avere il seme se me lo fate con il raccogliendo dove raccogliete bacche fibra vi danno intanto che i semi se lo fate con un dinosauro ve ne da di più anche avete una maggiore probabilità di prenderlo e quello che dobbiamo fare adesso è il fertilizzante praticamente il fertilizzante va fatto con questo attrezzo che si chiama compostiera voi selezionate e andiamo a posizionare possiamo che posizionarla dietro la nostra serra vedete possiamo metterla così tranquillamente io ne ho fatte due come vedete sentite un bel ronzio di mosche la compostiera funziona con la paglia e la cacca dei dinosauri praticamente voi dovete andare giro a raccogliere la cacca fate guardare il vostro giretto perché da quando l'animale defecca durano un minuto poi andate a prendervi la paglia che la paglia abbiamo messa qui in questo bello armadietto vedi quanta paglia ne prendete un po come vedete abbiamo anche già i semi pronti e andiamo a cacche ne ho già raccolte un po andiamo a inserire all'interno la paglia e le cacche di solito funziona che una cacca adopera una cinquantina di paglia quindi una due quattro cinque e 250 di paglia ok ne avanzeranno 50 facciamo la stessa cosa da quest'altra parte bene dopo un po di tempo lei trasforma la paglia e la cacca in fertilizzante lasciato passare un po di tempo vedete che all'interno della compostiera si è formato il nostro fertilizzante noi andiamo a estrarlo ci dirigiamo presso le nostre coltivazioni accediamo all'inventario e depositiamo il nostro fertilizzante dopo di che prendiamo il seme in questo caso prendiamo la saporadice buttiamo dentro il semino e vedete che vi da seminato fertilizzante e irrigato vedete che la piantina comincia spunta e comincerà pian piano cresce dopo di che vi darà le vostre delle vostre coltivazioni continuate mettete c'è la saporadice la lungherba mettete le mezzo bacche perché quelle vi servono per poi fare le kibble mettete la sassarota mettete il limone idro sono le cinque basi coltivazioni basi da avere nel vostro orto bene adesso dopo aver fertilizzato le nostre piante andremo a creare la nostra prima kibble le uova di dodo ci sono date gentilmente donate dal nostro dodo andiamo a cuocere la carne andiamo a riempire i nostri otri di acqua quindi li inseriamo nel rubinetto e quindi vedete che diventano pieni di acqua per fare una kibble ci vuole la fibra le measure berry che sono le miglior bacche ce ne vogliono cinque una di acqua dieci bacche rosse dieci bacche gialle un uovo e un pezzo di carne cotta questo per fare la basic allora vediamo se ha cotto un po di carne si ok quando andate ad accendere il vostro cooking pot usate la paglia è un trucchetto perché se usate la linea vi fa il carbone e poi dal carbone più le bacche vi fa i colori anche qui su gar game pedia trovate tutte le combinazioni per fare i vostri coloranti allora accendiamo mettiamo la carne uova bacca questo questo ok e ci manca l'acqua diamo l'acqua ok e andiamo a metterlo dentro adesso mettiamo anche la fibra vedete dopo un po di tempo vi fa la vostra keyboard basic spegniamo come avete visto da tutte queste poi vi da una keyboard questa è la keyboard basic la riconoscete dal colore bianco bianchetto insomma intorno al simbolo della crocchetta questo serve per creare le keyboard se voi più andate su logicamente avete bisogno anche di altri oggetti perché la carne non è più carne cotta ma diventa magari carne essiccata e in questo caso entra in gioco il conservatore per essiccare la carne ci occorre la polvere pirica che andiamo a sbloccare si chiama polvere pirica ce l'abbiamo sbloccata andiamo nel mortaio e pestello vedete che qui serve pietra e selce allora andiamo al nostro armadio pietra un po selce qui c'è un rapporto di uno a tre quindi con un pezzo di pietra e tre di selce fate un pezzo di sparpa di spar powder sono abituato all'inglese per una volta l'italiano non c'era quindi mettiamo dentro tutto ok facciamo partire fate a e vedete che vi crea la polvere pirica a colpi di due ogni uno è due 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 lui continua ad andare avanti prendete quando la polvere pirica arrivate verso il conservatore e fate altro che inserirla vedete che comincia a fumare prendete la carne la inserite l'unica un'altra cosa che vi manca de è il petrolio il petrolio è una risorsa non così facile da da reperire ci sono delle degli animaletti che trovate sulle spiagge che si chiamano trilobiti che ve ne danno un pochettine se lo dovete trovare sul fondale ci sono sulle sul fondale marino ci sono delle delle pietre nere che hanno tipo una lingua di petrolio e anche da lì potete farlo oppure ci sono le pompe di petrolio se magari avete nei drop le trovate potete anche mettere perché ci sono queste sorgenti tra virgolette se tu piazzi la tua pompa poi ti fa il petrolio nel nostro server noi ne abbiamo due che sono però le abbiamo lasciate pubbliche cioè che chiunque può andare a tingere per questo petrolio come per quanto riguarda a fertilizzare dopo un po di tempo vedrete che la carne ci sarà un altro simbolino diventa essiccata quindi dura di più rispetto alla carne cotta quando avanzate nel gioco ucciderete anche animali di taglia più grossa tipo facciamo esempio i t-rex vi danno anche le cosiddette prime che sono delle delle bisteccone sono tipo le braciole solo che hanno un difetto che durano un niente quindi se ne avete dovete cuocere immediatamente allora vi durano tre quarti d'ora e poi essiccarle immediatamente perché così sono molto pregiate sono molto difficili da reperire e poi vi durano di più bene quindi questo è un po il sistema per fare le kibble poi basta che guardate sulla gamepedia e lui vi dice cosa dovete fare sulle app tipo dododex potete guardare anche il tipo di dinosauro che kibble richiede se basic regular simple come vedete adesso la carne è diventata carne essiccata cotta da questo passaggio quindi da carne cotta diventata carne essiccata cotta potete fare la stessa cosa anche con la le prime quindi con la carne pregiata da carne pregiata cotta diventa carne essiccata pregiata cotta questo vi serve per farle kibble perché c'è alcuni alcune kibble vi chiedono o la carne essiccata cotta o la carne pregiata bene quindi dopo aver lasciato passare un po di tempo vedrete vedete che le piante cominciano a crescere e si creano le piantine questo è il limone questo è la patata questa è la carota questo è il mais e qui abbiamo le miglior bacche e le miglior bacche quindi abbiamo praticamente la nostra piantina che è sviluppata se voi siete all'inventario vedete che vi dà il la verdura che vi serve poi all'interno dell'inventario abbiamo fatto anche altre vedete altre chi voi queste sono la regola queste sono le simple che si creano con altri oggetti mi ha fatto gli ortolani questo episodio può terminare qui si sa cosa faremo nel prossimo questo punto al prossimo solcheremo i cieli tipo nel blu dipinto di blu si andiamo a trovare zeus non c'è ancora zeus è sempre esistito solo che ancora non l'hanno scoperto comunque iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per non perdere i prossimi video noi vi salutiamo un bacio ciao ciao ciao